con i vari banani perché era appunto nel giardino se era anche un banano l'avrete notato nel momento iniziale e la stagione il vento e i banani sono molto facili per questo sceglie questa immagine sono stracciati dal vento e sentono la pioggia nella notte attraverso il suono delle gocce sul bacile anche qui segno della povertà e dimensione haikai qui vediamo il rifugio di Pachaud sotto la neve con alcuni suoi discepoli poi avrà anche un uggendio saranno costretto a ricostruirlo con la morte all'intemperie questa è la disposizione d'animo con cui si affronta un primo viaggio della sua carriera il primo suo viaggio con la morte nel cuore il vento penetra il mio corpo parte in una stagione molto fredda e si avventura pensando che sarebbe appunto potuto morire anche lungo il cammino perché non erano sicuramente i viaggiaggiati di oggi qui vediamo un dipinto di Pachaud che qui è scritta la poesia e qui inizia la narrazione con la descrizione del paesaggio vedete un grande spazio vuoto case che indicano anche case umili eccetera che indicano anche l'abitato a rivedere gli esseri umani qui vedete la sequenza delle case che continua e la narrazione che inizia e che si alterna ai versi per chi si commuove il pianto di scimmia che dire di un orfano al vento d'autunno anche qui vento d'autunno quindi una certa stagione chi si commuoveva il pianto di scimmia erano soprattutto i poeti cinesi l'immagine del quindi lui introduce non solo moltissimi richiami alla tradizione giapponese ma anche a poeti cinesi l'immagine del grido delle straziante delle scimmie è un'immagine che viene dalla poesia cinese che però lui compara con un bambino che è stato abbandonato un infatti che è stato abbandonato che sarà destinato probabilmente alla morte che incontra lungo il suo cammino esperienza forse reale in ogni caso portata comunque a una dimensione d'arte qui vediamo sempre le raffigurazioni di questi percorsi di Basho vedete che ha un maestro di pittura viene tutto suggerito con pochissimi grazie pochissimi colori c'è il percorso della cascata il percorso delle acque e molto importante molto spesso anche la presenza umana nel caso del Heigar delle pitture di questo genere poetico ci sono delle raffigurazioni molto spesso sono anche raffigurati delle figure umane piccolissime che sono immerse nel fluire della natura i fiori di Altea sul ciglio del sentiero erano brucati dal cavallo dal mio cavallo dal cavallo su cui è sopra probabilmente appunto quello che ha composto il verso quindi Basho i contemporanei di Basho ricevano anche in questi versi anche un insegnamento morale perché è un segno che i fiori di Altea che sono andati a fiorire sul ciglio attirano l'attenzione del cavallo e vengono brucati quindi anche un insegnamento morale a non mettersi troppo in mostra ad essere più modesti più regolati altro esempio di poesia che richiama immagini del viaggio di Basho e anche immagini tratte dalla poesia cinese e anche giapponese assopito sul cavallo il cavallo andava a passo l'uomo non veniva lanciato nel galoppo la cerchi di sogno luna lontana il fumo del tè il fumo delle case di qualcuno che scalda l'acqua per preparare tutto il tè queste sono le immagini del viaggio queste sono altre immagini dipinti di Basho che descrivono il paesaggio intorno a Nara il viaggio sarà molto lungo arriverà anche nelle vicinanze del suo paese natale quindi di parte da Edo dove resta abilito il suo copitaccio e fa un attraverso un giro verso il nord e poi si dirige verso il sud e qui siamo a Nara qui vediamo il migatsudo di Nara come vedete descritto in grande maestria è anche un ottimo pittore apprende la poesia la poesia da insegna ma apprende la pittura sin da giovane e uno dei suoi allievi Pioricu in particolare è un grande maestro di pittura e gli insegnerà appunto a dipittere quindi i dipinti che vedremo sono dipinti da Pioricu ingronire sul mare lamenti di Germani vagamente bianchi lamento bianco un'immagine che torna che è molto originale che è utilizzata da Masha per indicare questo buio sul mare e la voce e i gridi dei gabbiani che danno e dei Germani che danno il senso del bianco giunto al sentiero tra i monti di fascino recondito le violette mentre i fiori d'altea erano troppo in evidenza erano divorati dal cavallo questa è l'interpretazione morale delle poesie le violette invece che sono un po' discrete insomma hanno uno fascino indescrivibile l'anno tramonta mentre indosso il coplicapo e allaccio i sandali di paglia qui la figura la posa di Basciò che si considera un viaggiatore abbiamo visto che intreccia il suo coplicapo anche qui allaccia i classici gualaci i sandali di paglia che caratterizzavano la figura del viaggiatore qui altre immagini vedete le figure umane questa opera è rimasta in computer ma Basciò ha cercato di dipingere appunto i diversi viaggi che lui ha effettuato qui vedete anche lo scuola dell'acqua fiori viaggiatore sarò chiamato prime piogge di inverno questa è un'altra raccolta sempre un'opera narrativa o inocobumi e inizia un viaggio con le prime piogge dell'inverno quindi ancora con una stagione molto rigida questa è la raffigurazione di queste che viene si accompagna i versi i versi sono scritti sopra e nella parte sotto c'è molto semplicemente scritto con grande maestria appunto il verde e le abitazioni queste sono invece dipinti di Teorico appunto all'allievo grande maestro di pittura che descrive proprio il suo maestro questo è Basciò vedete il posto di capo il bastone molto spesso aveva il mantello che lo prendono per la pioggia e i sanderi di paglia attraversa il villaggio natale il villaggio natale il cordone umbericale bianco tramonto dell'anno che distrò alla fine dell'anno il giappone si usava per conservare il cordone umbericale vedete che usa una parola che in poesia sicuramente nella poesia audica non sarebbe mai stata usata questa è la parola haidone è una parola da utilizzare solo nell'on haikai e fa sì che la poesia si trasformi in haikai però ha un pedico un gran tipo molto toccante l'ostalgia costante di papo e mamma lamento di fagiano anche qui una dimensione e ora che stanco prendo alloggio fiori di cricine le varie stagioni vengono segnate da queste immagini qui vedete un'immagine di una cascata e i fiori appunto delle rose sempatiche le carri japoniche il dipinto è della Leo Chioricu questa è una poesia che adesso vediamo è scritta da Pachot sfaldandosi petalo dopo petalo le carri si disperdano suono di cascate il suono della cascata stessa non so se l'avete notata la cascata del dipinto che fa cadere i petali con il movimento dell'acqua eccetera fa cadere i metali di queste di queste rose sempatiche ormai alla fine della loro fioritura alle piogge d'estate andiamo a vedere i galleggianti di Coligno quindi l'attenzione per la natura che è classica se parli i geni delle labbra vento d'autunno quindi la rigore vedete che torna l'elemento dello high-five tipico la povertà l'indigenza il freddo la sofferenza rappresentati con un tono anche umoristico ma nello stesso tempo molto sofferto vissuto che fa sì che appunto ma ciò sia così commovente primi scrosci d'inverno anche la scimmia desidera un mantello di paglia ed anche la scimmia che desidera il mantello è il titolo di una sua raccolta la scimmia con il mantello qui vediamo la poesia trascritta su una lettera su una struttura di disegnante di R per ridurre la stagione dell'inverno e i versi qui è un altro verso di poesia il tempo sta stringendo mi sembra quindi andiamo un po' più rapidi legato alla Kino di Karasaki e la figura di Onono Komachi una poestetessa famosissima che altera e superba bellissima che ha rifiutato tutti gli amanti eccetera ma che nella sua vecchiaia si troverà sola povera che viene cantata in poesia qui vediamo che Bacheau riprende forse molto piccolo il carattere riprende lo stesso verso e lo modifica nel tempo e questo fra die è come lui lentamente tridesse a far rarefare sempre i versi riducendo le immagini e lasciando maggior spazio all'immaginazione quindi lentamente toglie qualsiasi riferimento e rende i versi sempre più poveri ma nello stesso tempo più densi e suggestivi qui vediamo il pino appunto di Karasaki che è stato cantato in questa poesia lo vedete raffigurato sul promontorio è famoso anche qui richiama diversi famosi richiama un dramma famoso del no attraverso semplicemente rievocato solo pochissime parole viene evocato il verso del no vaga sembianza sola piange alla vecchia compagna della luna solo da queste parole ci richiamo il no appunto di ovastè della nuovecchia che è stata abbandonata sulla monta